Raccolta differenziata, il servizio stenta, ritardi su ritardi, che farà il Comune? Il tema è semplice ma non risolto, nel senso che noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, adesso aspetta al gestore del servizio, a chi si è giudicato la gara, anche a seguito della sentenza del Tari di Catania, di eseguire il servizio per come previsto dal capitolato. Vorrei che fosse chiaro a tutti che il capitolato prevedeva una fase transitoria che era di tre mesi, il servizio l'abbiamo affidato l'1 giugno 2017, per quanto riguarda la fase transitoria era terminata nel mese di agosto del 2017. Anche vorrei immaginare che la data dei tre mesi era il 4 agosto, perché il contratto è stato firmato il 4 agosto, mi sembra che siamo oltre il 4 agosto. Lo dico con chiarezza, non è sufficiente immaginare di avviare una differenziata solo a Cassibile, per come previsto nel capitolato, solo a Cassibile a Belvedere, perché non stiamo parlando neanche del 10% degli utenti del territorio di Siracusa. Quindi credo che gli adempimenti siano ben altri, siano legati anche a tutta una campagna di informazione, di sensibilizzazione che doveva essere già avviata. Abbiamo pazientato, anche credo abbastanza, in questo momento c'è una fitta corrispondenza col gestore rispetto a questi temi. La cittadinanza deve capire che quello che noi dovevamo fare lo abbiamo fatto, nei tempi anche corretti. Adesso, con la cittadinanza, anche l'amministrazione si aspettava un cambio di passo. E' vero che in questi giorni hanno comunicato, in quest'ultima settimana hanno comunicato l'avvio della domiciliare, quindi la differenziata, compreso l'umido, anche per Cassibile e Belvedere. Cassibile già comunque c'era, e con le modalità previste al nuovo capitolato. Belvedere non c'era, però per quanto mi riguarda non è per nulla sufficiente. Noi possiamo semplicemente chiedere che venga eseguito il servizio ed eventualmente prendere i provvedimenti nell'ipotesi in cui questo non avvenga, per come è previsto nel capitolato. Stiamo parlando di un capitolato con importi anche molto importanti, quindi è d'obbligo da parte di chi amministra una città avere un atteggiamento deciso, tenace, ma anche prudente, perché chiaramente non vogliamo creare problemi né all'amministrazione né alla cittadinanza, però deve essere chiaro a tutti che non è che stiamo a guardare per nulla. Se qualcuno pensa, ha immaginato che in questi ultimi due mesi siamo stati fermi, non è così. Le amministrazioni agiscono mediante gli atti, li abbiamo intanto posti in essere, c'è, ripeto, una fitta corrispondenza. Per quanto riguarda, e per l'amministrazione ovviamente che rappresento, in questo caso c'è solo da eseguire il servizio, nient'altro per come è previsto nel capitolato. Grazie a tutti.